eccomi ragazzi sono tornato il mio nome è gabry costa dopo aver sconfitto eligos vi devo dire una cosa molto importante parliamo seriamente siamo andati avanti con questo gioco ash versus evil dead insieme al retro reals siamo nella prima parte del quarto livello il nostro ash si sta dando da fare con la sua motosega ora siamo dentro a un manicomio c'è tutta la roba che va raccolta nel gioco le munizioni i fondi poi ci sono anche i drink che ti danno l'energia mentre vi state facendo male nel gioco con i drink cercate di non perdere ragazzi dico davvero lo so che in questo gioco non c'è un numero limitato di vite ma se perdete tutta la salute quando l'energia vitale scende a zero vi tocca riominciare da capo e infatti non ci sono checkpoint qui bisogna andare con calma non facciamoci prendere dalla fretta avete visto ci sono queste correnti d'aria tutto un volare vogliamo andare avanti o vogliamo perdere tempo ogni tanto bisogna cambiare dimensione bisogna usare l'occhio per cambiare dimensione tra gli incubi e realtà segare i nemici con la motosega di ash è divertente quando c'è il drink enorme ti dà tutta la salute ma se c'è quello piccolo poca ora il mio fratello alex costa sarà tutto contento del gioco che faccio lui non se l'aspettava e nemmeno io ecco la macchina trovata ash ci monta sopra guida e inizia a investire bene livello completato io adesso vi saluto iscrivetevi al canale e mettete un mi piace se questo video vi è piaciuto condividetelo ahhhh non 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 ma